C'è un altro spettacolo, un spettacolo di flamenco di una donna, credo, meravigliosa, almeno io così in tale lo definisco, che è una bella donna, ma a parte bella, mi pare che sia anche brava, Katia con le due figlie che presenta un spettacolo di flamenco. Vai Katia! Raccogliamo? Come siamo abituati al luogo? Un bel applauso, grazie. Allora, mi dicevano, mi hanno detto una cosa tecnica, non hanno le scarpe le bimbe perché la pista non era adatta per avere le scarpe, perché già una volta hanno tentato e poi si sono fatte male. Quindi, buon divertimento e vediamo un spettacolo, grazie. Buon applauso. Grazie. 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 a tutti voi un buon proseguimento di serata attivamente si va ciao grazie